Fischietta in bocca per Cenami, inizia Akragas, due torri, quattordicesima giornata in serie D, la prima da capolista per l'Akragas. Attenzione al due torri che attacca con il numero 7, Guido, la conclusione, Valenti si rifugia in calcio d'angolo. Gaio, dalla bandierina, palla sul primo palo, attenzione, si salva Valenti e si rimane sullo 0-0. 11 minuti sul cronometro, punizione per l'Akragas, sotto la curva sud, sul pallone Nicola Arena, fischia l'arbitro, parte il numero 10, la palombella, rete, super goal di Nicola Arena, la capolista in vantaggio. Con il numero 10, non ha meraviglia, il campionato per Nicola Arena che vuole vincere anche la classifica capocannoniere della serie D. Angolo per il due torri, attenzione al numero 10, Butera, palla sul primo palo, la palla è lì e ancora Valenti, salva l'Akragas. Palla gol per il capitano Guido al 22esimo. Fischia l'arbitro, parte Nicola Arena, 28esimo del primo tempo di testa, Pellegrino non riesce a segnare. 32 sul cronometro, parte il capitano Guido, la palombella, Valenti, super parata di Federico Valenti. Arena, attenzione a Starit, 46 sul cronometro e finisce qui il primo tempo, 1-0 per l'Akragas, gol di Arena su punizione al dodicesimo. Parte Venuti, la sua conclusione, barriera e poi palla, fuori di un niente. Nono della ripresa, parte Nicola Arena, la sua conclusione, di Dio, c'è. Si è fatto male al ginocchio Alessandro Bonaffini, in un intervento a vuoto su un avversario. Applausi per Alessandro Bonaffini, che lascerà il campo in barella. Angolo per la squadra ospite, ecco le cross in aria, attenzione Rete, ha segnato il due torri con il gigante Alizi. Parte il numero 3, palla in curva sud. Attenzione, Scarlato ha tuppertato un valenti, Scarlato, Rete. Gol del due torri, in contropiede. Parte il numero 10, il tiro e salvataggio del difensore. Decimo calcio d'angolo per l'Akragas, Savanarola, 4 minuti al novantesimo. Saraniti e di Dio, salva il due torri. Arena. Dalla bandierina, palla sul primo palo di testa, Rete. Roberto Assenzio. 2 a 2, a 3 minuti dalla fine. Il pari dell'Akragas con Assenzio. 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 Il pari dell'Akragas. Il pari dell'Akragas. Il pari dell'Akragas. Il pari dell'Akragas. Grazie a tutti.